Musica Elislein al Pidin, Molise si può vincere, la segretaria Demma ha parlato alla direzione del Nazareno delle elezioni regionali, Gravina resta in Pol, centrodestra in attesa di risposte da Roma. Studenti in piazza per il diritto alla salute, centinaia di ragazzi delle superiori della provincia di Isernia hanno manifestato in difesa della sanità pubblica, presente all'Assemblea anche l'Ordine dei Medici. Sospetto caso di Botulino ricoverata al Santimoteo, una donna di Ururi di 48 anni potrebbe essersi intossicata dopo aver mangiato un prodotto scongelato, condizioni serie ma già somministrata la prima dose di siero. Presentato a Campobasso il libro di Manuela Petescia, sala della Costituzione gremita per la presentazione di piccole immagini di raso bianco, romanzo d'esordio del direttore di Telemolise, edito da Rubettino. Calcio di serie D, tre turni alla fine, in trasferta Termoli e Vasto Girardi con gli Alto Molisani a un passo dalla salvezza, Adriatici in play-out, calcio a 5, C1 domani la seconda gara dei play-off. Buon pomeriggio, benvenuti all'edizione delle 14 del nostro telegiornale C'è la politica in apertura. In Molise occorre un'alleanza larga in vista delle prossime regionali. A dirlo è stata la segretaria nazionale del PD, Elislein, che ha parlato al Nazareno. Intanto anche da ambienti del Partito Democratico emerge un sostanziale appoggio alla candidatura di Roberto Gravina al vertice della regione. Ma facciamo il punto nel servizio di Pasquale Di Bello. Grazie mille. La segretaria nazionale del PD, Elislein, ha parlato alla direzione del partito dicendo a chiare lettere che per il Molise occorre un'alleanza ampia di coalizione, scongiurando così ogni ipotesi di divorzio dal Movimento 5 Stelle. Sullo sfondo di questo scenario, in casa del centrosinistra, resta come più accreditata per il vertice della regione la figura di Roberto Gravina, il sindaco di Campobasso è il più papabile tra i nomi messi in gioco. Il diretto interessato tace, ma il silenzio in assenza di una secca smentita o di un no grazie, resta a fare il sindaco, la dice lunga. A volte ci sono silenzi più eloquenti di molti discorsi. Il tentativo di trasloco da Palazzo San Giorgio ai Palazzi Vitale e Daimmo resta una prospettiva più che appetibile per il primo cittadino di Campobasso, al quale più che dal proprio partito il gradimento arriva dalla seconda componente della coalizione, il Partito Democratico. Proprio dagli ambienti demma arriva la conferma che il vero nome in gioco è quello di Gravina, gradito tra gli altri alla segreteria del partito. In cambio al PD, in caso di ipotetica vittoria, la contropartita sarebbe rappresentata dalla vicepresidenza della Giunta, con deleghe importanti e la staffetta tra 5 Stelle e Partito Democratico, alla guida del comune di Campobasso. Un totocalcio politico, anzi un super enalotto, però ancora lontano da incasellarsi. Sarà dedicata alle prossime regionali di giugno e al tema della sanità la puntata di ingresso libero in onda questa sera alle 21 ospiti. In studio di Pasquale Di Bello saranno il sindaco di Agnone e presidente della conferenza dei sindaci Daniele Saia, il coordinatore del Movimento Civico Molise Solidale Antonio D'Ambrosio, il consigliere regionale Gianluca Cefaratti e il capogruppo in regione del Movimento 5 Stelle Andrea Greco. La salute è un diritto, non un profitto. È lo slogan che centinaia di studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta la provincia di Isernia hanno urlato a gran voce durante la manifestazione di protesta in difesa della sanità pubblica. Presente all'Assemblea anche l'Ordine dei Medici. Sentiamo Valeria Migliore. Noi vogliamo la nostra sanità, vogliamo avere i nostri diritti. Giovani, sensibili e con la voglia di farsi sentire. Centinaia di studenti delle superiori dell'intera provincia di Isernia hanno preso parte alla manifestazione in difesa della sanità pubblica. La sanità è un diritto, non un profitto. La sanità è un diritto, non un profitto. Lo slogan del corteo che ha attraversato le vie della città fino alla stazione dove nel corso dell'Assemblea i giovani hanno rivendicato il diritto alla salute e la possibilità di avere un futuro nella loro regione. Noi siamo il futuro, ce lo ripetono i professori a scuola tutti i giorni e vogliamo prenderci i nostri diritti. Noi rivogliamo la nostra Italia. Gli adulti ci continuano a ripetere che tanto ormai che fa non cambierà niente. Sono generazioni che gli italiani dicono tanto non fa niente. Non è così. Non è così e noi vogliamo che le nostre voci vengano ascoltate. Se noi giovani arriviamo a preoccuparci per la sanità c'è davvero un problema perché non ci sentiamo tutelati al pieno e la colpa non è dei medici, la colpa non è assolutamente dei medici che invece stanno dando davvero tutto. Lavorano, fanno doppi turni, arrivano magari a casa anche proprio stremati, senza forze. Insomma la colpa non è da dare ai medici ma è da dare alla gestione della sanità. Anche l'ordine dei medici della provincia di Isernia ha voluto aderire all'Assemblea. Più ampia è pessimista la visione del presidente Fernando Crudele. Il Molise ha ormai poco da offrire, ha detto, e se nulla cambierà i giovani scapperanno fuori regione. Sotto gli occhi di tutti la situazione sanitaria, non soltanto ospedaliera ma proprio di tutta la sanità regionale ma ancora di più quella della piccola provincia di Isernia. Non è attrattiva per i medici, non è soltanto il discorso di sanità, è un discorso di tutto un tessuto socio-economico. Questi ragazzi fra qualche mese, fra qualche anno, lasceranno questi luoghi e non torneranno perché non abbiamo da offrire nulla, non abbiamo da offrire proprio nelle cose più semplici, dalla visita del medico di famiglia allo specialista, ma non abbiamo da offrire niente, neanche in cultura, neanche in professionalità. È chiaro che loro non torneranno e questo è un grave problema perché va via la cultura, vanno via i giovani. Un modello di sanità pubblica è accreditata che possa rispondere alle esigenze dei cittadini che vivono nelle aree interne. Lo ha elaborato Conf Cooperative che ha presentato il progetto nel corso di un incontro a Campobasso e particolari nel servizio di Anna Maria Di Matteo. La sanità con particolare riferimento all'assistenza dei cittadini che vivono nelle aree interne alle persone che hanno bisogno di assistenza perché anziane o con disabilità. L'argomento è stato affrontato nel corso di un incontro organizzato a Campobasso dall'Associazione Demetra e da Conf Cooperative Molise che ha elaborato un modello di sanità pubblica accreditata, come conferma il Presidente Domenico Calleo. Attraverso le nostre cooperative riusciamo a dare e offrire agli anziani e alla persona soprattutto non autosufficiente un servizio domiciliare che si va ad integrare con quello sociale. Il Molise oggi rappresenta in termini numerici 75.000 anziani di cui il 7% non autosufficienti per cui ci rendiamo conto che la Regione con la sua morfologia ha necessità di arrivare ovunque e attraverso il terzo settore, attraverso il volontariato, attraverso l'associazionismo noi possiamo garantire quella filiera sociale e sanitaria che vada a dare quelle risposte che oggi spesso l'anziano si aspetta e che non vengono date. Si parla di sanità e strutture accreditate anche perché gli aspedali pubblici sono comunque in affanno c'è carenza di organi, insomma un problema da risolvere. Io credo che al cittadino in generale e a quello molisano interessi una sanità di qualità che sia pubblica e che sia privata, però ci dobbiamo convincere che lavorando insieme soprattutto mettendo al primo posto la salute della persona perché la Costituzione, la nostra Costituzione lo dice chiaramente, noi ci dobbiamo responsabilizzare. C'è la necessità di una interlocuzione con le istituzioni, con il commissario ad acta? Noi dobbiamo cercare di uscire da questo commissariamento perché le risorse servono anche a dare migliore qualità della sanità. Fin quando siamo commissariati, siamo stretti, siamo obbligati a rispettare quei numeri purtroppo che il tavolo tecnico di Roma ci impone e noi sappiamo che non sono i ragionieri che decidono della salute pubblica, della vita delle persone, ma sono la qualità dei servizi che vengono offerti e soprattutto una programmazione finalizzata all'interesse collettivo della comunità, soprattutto di quelle persone non autosufficienti. Anche a Isernia è partita la mobilitazione della CGL Molise per dire no all'autonomia differenziata. Per contrastare il disegno di legge Calderoli, il sindacato ha avviato una raccolta firme per una proposta che ponga paletti alle richieste di autonomia, chiedendo che istruzione, sanità, tutela del lavoro e infrastrutture restino di competenza esclusiva dello Stato e la raccolta firme anche in altri centri della Regione. Incontro decisivo al Ministero delle Infrastrutture a Roma per la riapertura del viadotto sente i fondi sono a disposizione dell'ANAS e i lavori potrebbero consentire di riaprire in entrambi i sensi di marcia, almeno per i mezzi leggeri. Sentiamo Enrico Desimone. Viadotto sente lungo verso la riapertura al traffico a doppio senso per i mezzi leggeri. È di circa 16 milioni di euro l'importo previsto per i lavori di manutenzione sui piloni a rischio del ponte che collega il Molise all'Abruzzo, lavori con durata stimata di 10 mesi. Questo è il programma di riapertura emerso dal tavolo tecnico che si è tenuto a Roma tra i rappresentanti delle province di Sernia e Chieti, i dirigenti di ANAS e del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. L'incontro, coordinato dal consigliere giuridico del ministro Salvini, Michele Marone, riapre uno spiraglio concreto sulle sorti di un'opera di collegamento di primaria importanza per lo sviluppo del tessuto socio-economico dell'Alto Molise e dell'Alto Vastese. Dettagliato il cronoprogramma, ANAS presenterà in via ufficiale il progetto definitivo alla provincia di Sernia, progetto che, secondo fonti accreditate, potrebbe arrivare sui tavoli di via Berta già nei prossimi giorni. Seguirà una convenzione tra le parti, il trasferimento dei fondi dal Ministero alla Società delle Infrastrutture Stradali e poi l'avvio dei lavori. Sarebbero già a disposizione circa 7 dei 16 milioni necessari per la manutenzione. Dopo il ripristino del traffico sul viadotto, dovrebbe seguire una seconda fase di interventi per l'adeguamento dell'intera struttura. Non sono al momento esclusi ulteriori studi di ANAS per capire se il viadotto possa essere percorso anche da mezzi pesanti, ottimismo da parte di Ricci. Per la prima volta, ha detto, sul tavolo ci sono risultati concreti, risultati ottenuti grazie a un lavoro di squadra, grande collaborazione con il Ministero, grande l'impegno dell'Avvocato Marone e del consigliere provinciale Vincenzo Scarano, ora lavoriamo, ha concluso Ricci, per portare a termine tutte le procedure burocratiche del caso nel minor tempo possibile. Fonti qualificate parlano addirittura di una riapertura nel primo trimestre del 2024, al massimo in estate, notizia che soddisfa anche i gruppi di cittadini che a vario titolo hanno sposato la causa, come il Comitato Ponte di Castiglione Messermarino. Un'ondata di maltempo ha colpito l'Alto Molise nelle scorse ore, una violenta grandinata si è abbattuta su Agnone, diversi comuni limitrofi nella notte, diversi cittadini hanno segnalato danni alle auto, danni anche alle coltivazioni, una grande quantità di grandine, come potete vedere in queste immagini, si è accumulata sulla strada e ha invaso, come vedete, anche i marciapiedi e altro, e le macchine sono ferme mezzo a questa grandine e acqua. La proprietà della Vibac di Termoli ha incontrato i sindacati tra le proposte del management, il dimezzamento delle procedure di licenziamento, ma le parti sociali sono contrarie alla tutela di tutti i lavoratori, hanno detto viene prima di ogni cosa. Ora l'avvertenza si sposta sul tavolo regionale. Sentiamo Andrea Nasillo. Procedure di licenziamento non più 126 ma dimezzate, chiusura della linea 4, ciclo continuo interrotto, si lavorerà dal lunedì fino al venerdì, ma c'è di più la politica. La regione in questo caso deve garantire circa 6 milioni di euro per un piano di efficientamento energetico. Queste in sintesi le proposte che la proprietà della Vibac ha messo sul tavolo del confronto con i sindacati per quanto riguarda il futuro della fabbrica di Termoli. Il vertice chiesto da tempo dalle parti sociali è arrivato fino al tardo pomeriggio di ieri un incontro da remoto tra il management dell'azienda e tutti i rappresentanti sindacali nazionali e territoriali anche delle altre strutture del gruppo. Ma il verbale sottoscritto a fine confronto parla di mancato accordo. L'obiettivo delle organizzazioni di categoria è quello di salvaguardare innanzitutto tutti i lavoratori. I sindacati rivendicano i requisiti per altri 12 mesi di cassa integrazione, tempo utile a superare la situazione drammatica e risolvere al meglio l'avvertenza, compresi gli interventi di ammodernamento e adeguamento degli impianti. Giudico positiva l'apertura della proprietà, ma i licenziamenti non li accettiamo. La tutela dei lavoratori prima di tutto, il commento del segretario regionale della UILTEC Carlo Scarati. Ora argomentazioni e problematiche si spostano sul tavolo regionale, così come sono richiesti sempre l'impegno e l'attenzione del Governo centrale. Il tempo scorre, i lavoratori vogliono garanzie e rassicurazioni, c'è in ballo il futuro di tante famiglie. Rientrata l'emergenza nella fabbrica Stellantis di Termoli dopo il blackout dovuto a un guasto elettrico nel pomeriggio di mercoledì e dopo un graduale ripristino delle linee, già nella giornata di ieri e oggi tutti i reparti sono tornati attivi. È stato presentato a Campobasso nella Sala della Costituzione della provincia il romanzo d'esordio di Manuela Petescia, Piccole immagini di raso bianco, edito da Rubettino. Sala gremita e il pubblico attento e coinvolto ha seguito con attenzione gli interventi dei relatori e dell'autrice. Sentiamo. Gli applausi sono stati tanti. Caldo e avvolgente l'abbraccio della gremita Sala della Costituzione della provincia di Campobasso. La presentazione del libro di Manuela Petescia Piccole immagini di raso bianco è stata un successo. presentazione che arriva dopo cinque anni dalla pubblicazione, un'attesa lunga, con in mezzo un turbinio di vicende che hanno ritardato l'evento. Un romanzo dirompente, spiazzante, forte e allo stesso tempo delicato, quello di Manuela. Senza retorica, una scrittura piena, gestita su più livelli, cosa nient'affatto semplice e capace di trasmettere emozioni allo stato puro. Uno psichiatra, persona intelligente, con turbe caratteriali, incontra una donna dalla fortissima carica erotica, ma malata. Sullo sfondo, la provincia italiana, l'amore, il sesso, la morale, le convenzioni, l'amicizia, la morte, il matrimonio, la famiglia. Manuela tratteggia personaggi e situazioni penetrando nella psiche di ognuno, senza mai giudicare. Lo fa in modo diretto, anche crudo e scabroso, senza gli orpelli del moralismo e delle convenzioni, guardando pure nel proprio io. Quando poi guardi il tuo lato oscuro, riesci a penetrare nel lato oscuro degli altri e a descrivere questa miriade di persone dal loro punto di vista esteriore, cioè quello che appaiono in società e quello che sono realmente. Io lo faccio attraverso la micro galleria dei pazienti del protagonista, che è uno psichiatra. Sì, lo psichiatra è un uomo nella cui vita mi sono tuffata, mi sono immersa e ho parlato in prima persona come se fossi io. Questa è una mia tendenza. Stefano Sabelli, attore e direttore del Teatro del Loto, ha magistralmente letto brani del libro. Un romanzo, quello di Manuela, coraggioso e maturo, come lo ha definito l'editore Florindo Rubettino. Io penso che Manuela si scriva in una grande tradizione letteraria italiana e non sono stupito dalla presenza di un grande pubblico stasera, perché è giusto tributo ad una voce tra le più autentiche, tra i più originali della scrittura di questa regione. In piccole immagini di raso bianco, Manuela ha saputo creare una storia maneggiando sapientemente profonde conoscenze di psicologia e psichiatria, ma anche di letteratura. Da James, passando per il teatro di Ibsen, arrivando a Selin per la grande analisi introspettiva, c'è anche la sua passione per il cinema, la filosofia, la storia, come ha sottolineato la docente Adele Fraracci. Davvero un libro che è stato un affresco, un affresco come combinazione culturale, la sorgente appunto è la psicanalisi, ma abbiamo ritrovato in fondo letteratura, abbiamo trovato filosofia e anche la capacità di Manuela di fare scacco matto al Don Giovanni, intellettuale di Kierkegaard. Insomma, significa che c'è anche una grande capacità narrativa in tutto questo. Lo psichiatra, criminologo e psicanalista Angelo Malinconico, primo a leggere il romanzo, ha rimarcato quella capacità empatica junghiana di Manuela di entrare nell'ombra del protagonista e dei personaggi. Jung diceva ognuno porta un'ombra e meno è incorporata nella vita cosciente dell'individuo, più è nera e densa. E come si fa a scrivere un romanzo di quel tipo e in quel modo se non ci si cala nel rapporto con l'ombra. Ma non solo l'ombra tua personale, le ombre nostre sono di tutti. Moderatrice impeccabile la giornalista Sabrina Varriano che con Manuela Petescia ha dialogato con spunti intelligenti partendo dal libro ma arrivando a toccare argomenti profondi, anche personali che hanno messo in luce ancora una volta la grande personalità dell'autrice, i suoi valori, il suo mondo interiore. Quei sogni che negli ultimi anni si erano spenti come la stessa Manuela ha detto, ieri sera hanno ritrovato nuova luce in attesa del nuovo romanzo. I neuroni danzano al buio inseguendo una parola chiave, il sonno. E mi scaraventano di qua e di là tra momenti di vita distanti tra loro decine di anni e sono piccole immagini di raso bianco. Oggi alle 17 conferenza stampa di presentazione degli eventi in programma a Campobasso nei giorni del Corpus Domini nella sala civica al piano terra di Palazzo San Giorgio saranno presentati gli appuntamenti del prossimo Corpus Domini dunque che si terranno nell'area eventi che sarà allestita nella zona di Selva Piana. Una donna di Ururi di 48 anni è stata ricoverata al Santimotio di Termoli per una sospetta intossicazione da botulino dovuta probabilmente a un vasetto scongelato. La situazione è delicata ma è stata già somministrata la prima dose di siero. Sentiamo Andrea Nasillo. Sospetta intossicazione da botulino la corsa verso l'ospedale Santimotio una donna di 48 anni di Ururi ricoverata di urgenza in rianimazione effettuate subito le colture per individuare il batterio. Il botulino può contaminare gli alimenti rendendoli particolarmente pericolosi per la salute umana. La sospetta intossicazione sarebbe sopraggiunta dopo aver mangiato cibo scongelato conservato in un vasetto preparato in casa. In queste circostanze di solito dopo un periodo di incubazione dalle 12 alle 48 ore fino a 8 giorni nei casi eccezionali compaiono sintomi come nausea vomito e forti dolori muscolari non mancano rischi di carattere neurologico e respiratorio la donna è tenuta sotto stretta osservazione durante la notte è partita da Napoli la staffetta per il siero antibotulinico coordinata dal centro antivelene di Pavia somministrata già la prima dose il quadro clinico resta comunque delicato. La picchiava e offendeva da 20 anni ora non può più avvicinarsi alla casa familiare lo ha deciso il GIP di Campobasso dopo l'ennesimo episodio di violenza accaduto in una casa di Montagano è un reato sempre più frequente ha dichiarato il procuratore capo di Campobasso Nicola D'Angelo sentiamo Giovanni di Tota quando sono cominciate le botte le minacce e le ingiurie lei aveva 30 anni oggi ne ha 50 e per tutto questo tempo ha sopportato in silenzio 20 lunghi anni trascorsi sotto lo stesso tetto senza fiatare cercando di tenere nascosti i segni delle botte e di farsi scivolare addosso le offese e le umiliazioni fino all'ultimo episodio accaduto qualche giorno fa al termine dell'ennesimo scontro l'uomo 57 anni le ha sferrato un paio di pugni al viso poi ha minacciato di ammazzarla la donna è fuggita via di casa nascondendosi dai vicini il marito non vedendola più rientrare ha varcato il portone della stazione dei carabinieri di Montagano e ne ha denunciato la scomparsa tanto che la prefettura aveva già avviato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse quando i militari l'hanno rintracciata nella casa dei vicini lei ha vuotato il sacco e raccontato come ha trascorso gli ultimi vent'anni di matrimonio un inferno quotidiano che la donna aveva preferito di non denunciare prima per tutelare il buon nome familiare e preservare il marito ha spiegato ai carabinieri dalle conseguenze delle proprie azioni l'uomo ora è stato allontanato dalla casa familiare con l'obbligo di abbandonare l'abitazione non farvi rientro e non avvicinarsi alla vittima e a tutti i luoghi da lei frequentati l'ordinanza è stata eseguita dai carabinieri su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Campobasso al quale si è rivolta la procura della Repubblica del capoluogo questa ha dichiarato il procuratore Nicola D'Angelo è la punta dell'iceberg di un tipo di reato che emerge in maniera sempre più ricorrente in questo territorio sono partiti questa mattina i controlli dei cani antiveleno dei carabinieri su tutto il territorio di Poggio Sannita l'intervento a seguito della segnalazione di alcuni cittadini nei giorni scorsi infatti diversi cani e gatti dopo aver ingoiato dei bocconi sono andati incontro a convulsioni diarrea e tachicardia nonostante il tempestivo soccorso del veterinario per alcuni degli animali non c'è stato nulla da fare sono state proclamate le scuole vincitrici per il Molise del progetto scuole viaggianti promosso da Estra con l'obiettivo di educare le nuove generazioni alla sostenibilità ambientale per i migliori lavori tre scuole primarie premiate quella di Guglionesi la scuola difesa grande di Termoli e la scuola di Matrice si è svolto ad Agnone al teatro Italo-Argentino un incontro internazionale sullo scrittore giornalista molisano del Novecento Francesco Jovine l'autore delle terre del sacramento della signora Ava e del viaggio in Molise dunque un grandissimo lavoro giornalistico e uno dei più grandi scrittori molisani sentiamo il parco letterario del paesaggio Francesco Jovine ha celebrato il maggiore scrittore molisano del Novecento in due giornate un itinerario emozionale partito a Guardia Alfiera paese natio di Jovine e giunto ad Agnone questa mattina quale luogo citato dall'autore nella sua raccolta Viaggio nel Molise un convegno internazionale voluto fortemente dai parchi letterari nazionali in onore di Francesco Jovine un uomo senza tempo Agnone viene raccontata in modo fantastico da Francesco Jovine in quel viaggio nel Molise che ha permesso non solo a noi molisani ma a tutti i lettori a tutti gli appassionati di lettere del viaggio di conoscere questa straordinaria regione Francesco Jovine è un personaggio importantissimo per la letteratura italiana per la storia d'Italia e il parco letterario intende non solo celebrarlo e ricordarlo ma partire non tanto dalla sua opera ma dai luoghi della sua ispirazione un po' come la linea di tutti i parchi letterari il soggetto è il territorio che ha fornito ispirazione quindi quello che un autore ha visto mangiato sentito ascoltato ma ovviamente l'evoluzione del paesaggio e della storia degli uomini e delle donne di questo territorio l'incontro tenutosi al teatro Italo-Argentino di Agnone ha raccolto le voci più autorevoli sull'autore molisano narrando negli aspetti più salienti dalla sua vita e della sua scrittura dalla scuola alla sua formazione gramsciana fino all'impegno politico e sociale che lo ha sempre caratterizzato Piovine è uno scrittore come tantissimi altri della letteratura italiana è una grande voce perché è stato uno storico profondo ha parlato del nostro sud del mezzogiorno ma poi io lo trovo anche quindi della terra della sofferenza dei contadini però legata non solo alla regione ma è come se descrivesse tutti i sud del mondo Prosegue la tournée dello spettacolo teatrale dedicato al delitto di Giacomo Matteotti il mio nome è Tempesta che ha ottenuto il premio nazionale della presidenza del Consiglio dei Ministri sarà in scena domani sera all'auditorium di Isernia a partire dalle 21 i biglietti sono in vendita sulla piattaforma Ciao Tickets e in diversi punti vendita della città lo spettacolo è promosso e organizzato dalla Proloco Città di Isernia è patrocinato dall'amministrazione comunale è tutto termina qui il nostro TG del 14 dopo la sigla le previsioni meteo poi la linea passa come sempre ai colleghi dello sport noi ci rivediamo intorno alle 15 per il TG Flash buon pomeriggio per il TG Flash per il TG Flash per il TG Flash